Quello che si è appena concluso è stato un weekend nero per il turismo napoletano. Le migliaia di viaggiatori in arrivo in partenza dal capoluogo campano hanno dovuto infatti affrontare disagi non indifferenti nel corso delle giornate di sabato e di domenica, a partire dal caos che si è generato all'interno dell'aeroporto di Capodichino, a causa degli scioperi dei controllori di volo e NASV e del personale di alcune compagnie aeree low cost. Ben 77 voli cancellati, 37 in arrivo e 40 in partenza secondo i dati GESAC, per lo più legati a compagnie come EasyJet, Wizz Air, Ryanair e Volotea. Non meno complessa la situazione che ha caratterizzato le estenuanti attese dei turisti al molo Beverello. Poche pensiline e caldo sfissiante sono una commo mortale e le centinaia di viaggiatori che desideravano prendere il largo diretti verso le isole napoletane sono stati costretti a una vera e propria sauna a cielo aperto, prima di potersi finalmente imbarcare e partire. Tante le segnalazioni di disagio e di servizi, come testimoniato dalle parole del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Purtroppo la situazione è totalmente fuori controllo. La partenza per le isole assomiglia a un girone infernale con migliaia di persone assiepate in attesa di acquistare un biglietto o dell'imbarco, sotto temperature torride. Insufficiente il personale di assistenza, così come quello delle forze dell'Urdine, che dovrebbe garantire la sicurezza di turisti e cittadini. Si tratta di un problema ampiamente prevedibile, spiega Borrelli, specialmente considerato il ritorno di flussi di passeggeri dopo due anni di pandemia. Un'immagine negativa per il rilancio turistico della città e della regione, continua il consigliere dei Verdi, che necessita l'adozione di un piano di emergenza da parte dell'autorità portuale e delle istituzioni competenti. Serve istituire un protocollo in queste settimane di boom turistico, che sia in grado di ridurre i disagi e garantire piena sicurezza ai viaggiatori. Non sempre chi parte per le isole è giovane. Con questo clima rovente, in certe condizioni di viaggio, anche i rischi sanitari sono dietro l'angolo.